Hai messo in pericolo il nuovo giudice! Abbiamo fatto atterrare l'astronave per salvare il tuo laboratorio. Tu ci hai lasciato senza giocattoli! Ma tutto bene! Il nuovo giudice cresce ogni giorno sempre più forte. Si nutre abbondantemente con l'energia di questo pianeta. Non siamo l'unica fonte che i quintessenziali usano per il nuovo giudice. Stanno prosciugando l'Hallspark. Lavoreremo tutti insieme per fermarli. L'Alleanza Bumblebee! Grim! Scusa. Ups! Scusate. Scusa. Qual è la tua risposta, Megatron? Sei d'accordo nell'unire le nostre forze? Accordo, disaccordo! La verità è che questa faccenda non mi interessa! Non possiamo contare sull'aiuto di Megatron. Non preoccuparti, Optimus. Ci penso io. Ehi! Fate silenzio! Forza, gente! Calmatevi! Ehi! Ora basta! Silenzio! Bel lavoro, Soundwave. C'è un solo nemico. Sto parlando di quei mostri con i tentacoli. Gli Autobot e i Decepticon lanceranno un attacco congiunto alla loro astronave. Ci stai chiedendo di collaborare con gli Autobot? Cosa? Ramjet ha provato a farmi esplodere almeno un centinaio di volte. Ora come facciamo a farli collaborare? Beh, li costringeremo. Fantastico! Siamo qui con testa a cono e cervello di gallina. Noi invece siamo con cupo e burbero. Allora, testa a cono. Cervello di gallina. Cupo. Burbero. Si comincia. Buon allenamento. Non deludeteci. Ah! Questa è un'arma degna del potente braccio di Grimlock. Ah! Ah! È mia! Smettetela! C'è una prova da superare. Ah! Non preoccuparti, ti proteggo io. Tocca a voi. Entrate. Adesso. Ricordate, ragazzi. Dovete collaborare. E non deludeteci. Siete i prossimi. Proviamo a dargli un incentivo. A presto! Sì! Sì! Facciamolo ancora! Dai, ci stiamo divertendo! Sì! E io quando inizio ad allenarmi? Abbiamo in mente qualcos'altro per te. Qualcosa di grande. O forse dovrei dire qualcuno. Non possiamo distruggere i quintessenziali senza il potere di Iaconus. Ovviamente noi non siamo riusciti a svegliarlo, ma... Ma voi non siete dei City Speaker. Cosa? Non è certo così che dovrebbe andare. Windblade, il potere di Iaconus avrebbe anche potuto distruggerti. Tu sei una City Speaker, ma lui non è solo un titano. Prima di tutto è un conquistatore. Un conquistatore è esattamente ciò che ci serve. Questo non è il momento propizio per risvegliarlo. Ok, può darsi. Ma io voglio riprovarci. No. Useremo solo ciò che abbiamo. Dobbiamo far esplodere la testata il più vicino possibile all'astronave. Me ne occupa io, Optimus. Ti do una mano. Bel lavoro, testa a cono. Sei pronto? Sì! Optimus è in arrivo. Ok, fuoco a volontà! Questo affare è fantastico! Oh, sì, lo so. Optimus, via libera! Puoi andare! Aspetta. Sta arrivando qualcuno. Che cosa succede? Attenzione, gente! Aprite bene le orecchie e ascoltate. Io sono Lord Noh, braccio armato dei giudici. Voi state oltraggiando la corte! Scusate! Go, Reka! Avanti! Ah! 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 Avanti! Oh no! Optimus, Hot Rod, rispondete! Catturateli! Non lo permetterò! Nessuno deve scappare! A tutti i bot! Ritirata! Ritirata! Armata, ritiratevi! È Iaconus! È stata Windblade! Ritirata! Ho già perso troppi cityspeaker in questo modo. Ritirata! 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 Ritirata!